Con la Banca Nazionale delle Terre Agricole, gestita da Ismea, un ente del Ministero delle Politiche Agricole, 8.000 ettari di terreni tornano a produrre. Basta collegarsi al sito www.ismea.it e accedere alla banca online, dove i terreni in vendita sono già localizzati per regione. Gli utenti registrati possono visualizzare tutte le caratteristiche delle terre e l'attuale tipologia di coltivazione. Partecipare è semplice. La procedura è aperta dal 5 dicembre. Invia tramite il sito la tua manifestazione di interesse entro febbraio. Partecipa alla vendita e coltiva. E per i giovani under 40 c'è la possibilità di un mutuo agevolato. Banca Nazionale delle